Camer. Ristrutturazioni di interni. Via Aldomoro 38. Sondrio. Stress, ansia, depressione e un conseguente peggioramento della qualità della vita. Questi gli effetti negativi che aveva portato in dote il periodo di lockdown tra marzo e maggio 2020. Con il nuovo mini lockdown, scattato oggi con l'istituzione della zona rossa in Lombardia, la paura di ricadere in quel vortice dietro l'angolo. Sviluppare pensieri ed emozioni positive per contrastare con efficacia la negatività portata dalla pandemia e dalle chiusure a una buona base di partenza. La speranza è una scelta. Nel momento così difficile che stiamo attraversando per una seconda volta un trauma, una cronicizzazione, uno sfinimento mentale, così è stato definito, pandemic fatigue, non dobbiamo permetterci di lasciarci andare. Oggi con l'emergenza epidemiologica in corso ci troviamo catapultati in un contesto surreale, incomprensibile e sospeso, in cui la morte sta invadendo i nostri spazi e i nostri pensieri. Nel lutti che abbiamo subito dobbiamo trovare la nostra crescita. Nel dolore dobbiamo riconoscere il fatto di averci provato. Il lockdown può portarci anche a riscoprire noi stessi, a dedicare del tempo a noi per togliere spazio alla paura. Possiamo riscoprire il valore del tempo, ritagliandoci questi momenti per ascoltarci, per creare, per progettare, per scrivere, per leggere, per trovare tutti quegli strumenti che ci migliorano come persone. Il dolore incrementa e porta ad altro dolore. Cogito ergo soffro. Il pensare continuamente ci porta alla sofferenza, mentre bisogna agire e fare qualcosa di utile per noi e per gli altri. Prenderci cura di noi stessi, agire, aiutare gli altri, le azioni che bisogna mettere in atto in questa fase, lasciando da parte invidia, rabbia e gli eventi passati. Ricordatevi la cosa più importante. Possiamo essere veramente felici occupandoci l'uno degli altri. Questa è la vera felicità. Si chiama compassione. Ed è una cosa che noi abbiamo innata.